se io dico la parola vocazione voi a cosa pensate per primo credo che la maggior parte pensi alla vocazione religiosa o alla vocazione sacerdotale poi qualcuno penserà anche alla vocazione matrimoniale al matrimonio come vocazione e questo è normale ma qui stiamo ancora nell'ambito di una vocazione particolare ma ogni cristiano per il fatto stesso di essere cristiano cioè di cristo ha una primaria e fondamentale vocazione ciascuno di noi ha questa vocazione e stiamo parlando della vocazione alla santità lo dice san paolo nella lettera agli efesini in cristo dio ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi ed immacolati al suo cospetto nella carità tutti pertanto siamo chiamati alla santità questa vocazione è universale ci ricorda il concilio vaticano secondo e tutto questo è confermato dalla visione che ci riferisce san giovanni apostolo nel libro dell'apocalisse vidi una moltitudine immensa che nessuno poteva contare di ogni nazione tribù popolo e lingua tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello a volte in vesti candide e tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce la salvezza appartiene al nostro dio seduto sul trono e all'agnello la salvezza appartiene al nostro dio seduto sul trono e all'agnello questa affermazione ci fa capire che per la grazia di dio e per l'amore di dio che noi possiamo raggiungere la salvezza ed è quello che lo stesso giovanni cerca di farci capire nella sua prima lettera carissimi vedete quale grande amore ci ha dato il padre per essere chiamati figli di dio e lo siamo realmente carissimi noi fin d'ora siamo figli di dio ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato sappiamo però che quando egli si sarà manifestato noi saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è ed è questo il senso della visione dell'apocalisse riferita da san giovanni che però continua dicendo anche chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso come egli è puro pertanto già siamo figli di dio possiamo dire già siamo santi così infatti venivano chiamati i cristiani ai primordi del cristianesimo e questo in virtù del battesimo che ci rende figli di dio ci rende figli nel figlio e ci abilita per così dire a percorrere il cammino verso la santità sulle orme di cristo gesù l'unico santo l'unico giusto ma c'è un cammino da percorrere è un cammino di purificazione un cammino di progressiva conformazione a cristo c'è in altri termini una lotta da affrontare e non è un caso che tutti coloro che facevano parte di quella moltitudine immensa che nessuno poteva contare erano avvolti in vesti candide e tenevano rami di palma nelle loro mani le vesti bianche come simbolo di una avvenuta purificazione i rami di palma come simbolo invece della vittoria e segno di una lotta combattuta e vinta con il proprio impegno naturalmente con la grazia di dio difatti uno degli anziani che stava attorno al trono chiede questi che sono vestiti di bianco chi sono e da dove vengono sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello sono dunque coloro che vengono dalla grande tribolazione ma non si tratta soltanto dei martiri ma anche di coloro che sono stati purificati da quello stesso sangue nel sacramento della confessione di coloro che sono stati nutriti dal sangue dell'agnello nel sacramento dell'eucaristia di coloro che hanno saputo offrire la propria vita insieme alla vita di gesù nel martirio così come nelle persecuzioni nelle tribolazioni nella testimonianza nelle piccole e grandi sofferenze e molestie della vita quotidiana nella fedeltà ai propri doveri quotidiani ai propri doveri di stato e anche di coloro che hanno saputo ben combattere la buona battaglia della fede e questo anche nelle vite più ordinarie di cui forse nessuno ha mai sentito parlare e che sono sconosciute al mondo al di là di questo è chiaro però che la santità è una cosa seria e non si tratta propriamente di una passeggiata ma costa fatica costa rinunce costa sofferenze tanto che qualcuno potrebbe scoraggiarsi e spaventarsi di fronte a questa prospettiva ma dice benedetto sedicesimo l'esperienza della chiesa dimostra che ogni forma di santità pur seguendo tracciati differenti passa sempre per la via della croce la via della rinuncia a se stesso e questo in fondo lo diceva anche gesù la santità dice esige uno sforzo costante ma è possibile a tutti perché più che opera dell'uomo è anzitutto dono di dio tre volte santo santità e conformazione a cristo e imitazione di cristo consiste nel percorrere la strada che ha percorso lui stesso una strada che prevede una passione una morte ma infine anche una resurrezione ed ecco allora il senso delle beatitudini e lui infatti il povero spirito l'afflitto il mite l'affamato e l'assetato di giustizia il misericordioso il puro di cuore l'operatore di pace il perseguitato a causa della giustizia ma lui anche il beato per eccellenza anzi è la fonte stessa della beatitudine pertanto beati saranno anche coloro che accetteranno di essere simili a lui in tutto questo le beatitudine esprimono infatti il mistero di morte e risurrezione di passione e di gioia della risurrezione che ci invita la sequela di gesù e nella misura in cui accogliamo la sua proposta e ci poniamo la sua sequela ognuno nelle sue circostanze anche noi possiamo partecipare della sua beatitudine non dobbiamo commettere però l'errore di scoraggiarci e di considerare la santità come qualcosa di irraggiungibile i santi non sono soltanto quelli che sono elencati nel calendario che sono ufficialmente canonizzati ma ce ne sono migliaia e migliaia sconosciuti che hanno condotto una vita ordinaria madri e padri di famiglia lavoratori laici adulti bambini ragazzi per questo mi piace ricordare le parole di san giovanni paolo secondo il quale definiva la santità come misura alta di vita cristiana ordinaria inoltre in virtù della comunione dei santi noi possiamo soffruire della intercessione della chiesa trionfante ovvero di coloro che già hanno raggiunto quel traguardo che tutti noi chiesa militante ed ancora pellegrina su questa terra stiamo cercando di raggiungere è bello pensare che loro che hanno già raggiunto la visione beatifica che sono già nella gloria di dio facciano un po come tifosi allo stadio e siano lì a fare il tifo per noi pronti ad aiutarci ad accogliere le nostre preghiere le nostre suppliche ottenendoci da dio le grazie necessarie a raggiungere il fine della nostra vita il fine per cui dio ci ha creati ovvero dare gloria a dio con la salvezza della nostra anima per la verità possiamo contare anche sull'intercessione della chiesa purgante ovvero delle anime già salve che però non furono perfette nella carità e che perciò si stanno purificando in purgatorio anche loro possono intercedere per noi come noi possiamo pregare per loro ed offrire per loro sante messe in suffragio così come anche buone azioni per accorciare questo tempo questo loro tempo di purificazione e ricorderemo i nostri fratelli defunti il giorno 2 novembre subito dopo questa solennità di tutti i santi e per concludere affidiamo infine la santità della nostra vita anche alla vergine maria colei che dice la lumen gentium brilla innanzi al popolo di dio peregrinante come segno di sicura speranza e di consolazione lei che essendo una creatura umana ce l'ha fatta e già nella gloria di dio e già nella visione beatifica e che con la sua molteplice intercessione continua ad ottenerci doni che ci assicurano la nostra salvezza eterna e che con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli ed affanni fino a che non siano condotti nella patria beata siano lodati gesù e maria grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti